All'improvviso si sente uno scoppio fortissimo. Ma chi sarà toccato questa voce? Alla fine dell'Ottocento questo luogo era poco più che una campagna con una piccola stazione ferroviaria. Quel piccolo villaggio operaio cresciuto intorno a una fabbrica presto divenne una città di fondazione. È un evento unico nella storia della progettazione di mio padre. L'atto creativo è un atto assolutamente artistico, lo dice lui anche. Io affermo che non è vero che la scienza delle costruzioni determini sempre una soluzione esteticamente soddisfacente. Sono un uomo che è entrato nel campo dell'architettura dalla porta di servizio. La politica di Mussolini è a favore dell'industria. Non è vero che la retorica anti-industrialista e ruralista di Mussolini significhi smantellare l'apparato industriale. Non fu disgiunto dal pensiero per le opere preparatrici, per le future vittorie di pace. Fu il periodo d'oro dell'ingegneria italiana. Certo, se pensiamo a come ci siamo ridotti adesso rispetto a quel periodo, beh, un po' di tristezza viene. Va su in alto la più grandiosa opera in cemento armato d'Europa, la seconda del mondo. C'è il progetto? Questo progetto intorno a sé vede quali interessi. Tizio Caio Semprone, ci state? Ci state davvero? Ci state anche arrischiando qualcosa? Questa storia parla di collaborazione, di capacità di ascolto e di intesa reciproca che si estende sotto un periodo superiore a 100 anni. Una sorta di sovrapposizione tra il villaggio e la fabbrica. Crespi D'Adda, Valdagno, Colleferro, Ivrea. In queste città domina l'etica del lavoro. Tutti lavorano, tutti sono messi al lavoro. L'ozio è bandito, l'ozio è il vizio capitale. Raga, a te te servono le fabbriche, te servono le acciaierie, te serve l'acciaio e te serve tutto il resto. Non c'è liberazione nella povertà. 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 Non c'è liberazione nella povertà.